Per i filatelici un'occhiata alla mostra internazionale del francoborlo che ha riunito a Praga esemplari fra i più rari esistenti al mondo e il cui valore è stato valutato in 50 milioni di corone. Nella sezione britannica si può vedere il primo francoborlo emesso nel mondo, naturalmente di inestimabile valore. Un altro cimelio è costituito da una lettera affrancata proveniente dallo Zeppelin-Hinderburg incendiatosi negli Stati Uniti. L'importanza di questa mostra risalta anche dal fatto che il numero di francobogli esposti potrebbe tappezzare una superficie di 1640 metri quadrati.